Ammontano a 10 milioni di euro gli investimenti previsti per il 2023 nel comune di Mondolfo, diversi settori coinvolti dagli istituti scolastici alla viabilità, dal rischio idrogeologico alla difesa della costa fino alla mobilità sostenibile. A scendere nei dettagli il sindaco Nicola Barbieri. Per quanto riguarda le scuole concluderemo nel 2003 i lavori di adeguamento sismico della scuola media fermi, poi proseguiremo con altri interventi di riqualificazione nelle scuole, faremo interventi alla scuola materna Campus e anche alla scuola elementare Campus. Inoltre come amministrazione comunale abbiamo ottenuto un importante finanziamento di 1 milione e 800 mila euro circa per un nuovo asilo nido a Centocroci con il piano nazionale di ripresa e resilienza e quindi sarà un intervento che partirà proprio nel 2023. Sul fronte della viabilità invece inizieranno i lavori di ANAS attesi da tempo dai cittadini per la rotatoria in sostituzione del semaforo tra la statale adriatica e la 424 della Valcesano, costo dell'intervento 475 mila euro. Inoltre per ridurre il rischio idrogeologico proseguono i lavori per il nuovo canale di raccolta delle acque meteoriche. Ora siamo sulla zona mare, poi il cantiere andrà nei prossimi mesi a Monte e quindi interverremo su via Corfu, via Martini, su via Betti e anche su via Ferrari. Quindi un intervento che ci permetterà di ridurre il rischio allagamenti. Per quanto riguarda la difesa della costa interverremo con il potenziamento delle scogliere soprattutto nella zona centrale di Marotta che necessita appunto di manutenzione di una maggiore difesa. Per quanto riguarda invece la mobilità sostenibile sono diversi gli interventi perché sono in fase di conclusione i lavori del collegamento ciclopedonale che collega la nuova pista ciclabile di Piano Marina con via 25 Aprile e via Primo Maggio e poi partiremo anche con l'intervento. Abbiamo approvato in giunta comunale da poco il progetto della ciclopedonale che collega Centocroce a San Gervasio. Ma non ci fermiamo qui, assicurato Barbieri, perché stiamo lavorando addetto anche ad altri progetti. Abbiamo due obiettivi importanti, uno è la riqualificazione del lungomare sud. In questi anni abbiamo riqualificato quasi tutto il lungomare, l'ultimo tassello che manca è il lungomare sud. In particolar modo ci concentreremo dal sottopasso Togliatti alle vele e quindi con la progettazione. Inoltre stiamo portando avanti anche la progettazione della riqualificazione del campo sportivo del Marotta che necessita di manutenzione straordinaria. Quindi questi progetti poi serviranno appunto dei finanziamenti, cercheremo di finanziarli anche nel bilancio di previsione che approveremo a breve in Consiglio Comunale.